Puoi risolvere così l'errore esrt.trail.txt su Windows 10 o Windows 11, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per spegnere il computer, quindi quando lo accendi e vedi così il logo di Windows, tieni premuto il tasto, quindi il pulsante di accensione finché non entri in questo pannello. Isoluzione dei problemi, opzioni avanzate e ora andiamo direttamente sul prompt dei comandi. Esegui tutti questi passaggi, tutti i comandi da inserire sul cmd. Facciamo invio. Una volta fatto vai a scrivere c h k d s k spazio flash f spazio slash r spazio c, due puntini e fate invio. Una volta fatto invio, aspettate un attimo e poi andate a scrivere s f c spazio slash scanno. Una volta eseguito tutto, aspetta la verifica, premi exit per uscire da questo pannello e premi invio, basta. E fai continuo. Grazie. Grazie.